La finestra azzurra, un promontorio roccioso sull'isola di Gozzo nell'arcipelago di Malta, è crollato dopo un forte temporale. Già dal 2013, dopo alcuni sopralluoghi, era noto che la struttura era stata indebolita dall'erosione continua causata dagli agenti atmosferici e da allora la zona era stata soggetta a divieti di camminamento che, molto spesso, non venivano rispettati da abitanti e turisti. La finestra azzurra era uno dei monumenti naturali più conosciuti dell'arcipelago ed era stato utilizzato come set cinematografico per moltissimi film e serie tv.